alleviare il dolore articolare in pochi giorni. I dolori muscolari e articolari possono essere una conseguenza di lesioni, sforzi eccessivi o disturbi di diversa natura. Questi fastidi possono diminuire la qualità di vita delle persone che ne soffrono poiché impediscono di svolgere le proprie attività con normalità. La buona notizia è che questi disturbi possono essere trattati in modo naturale ed esistono molti rimedi efficaci che possono dare un sollievo completo in poco tempo. Sebbene nella medicina naturale ci siano diversi trattamenti per calmare e trattare i dolori muscolari e articolari, oggi vogliamo condividere con voi un rimedio eccellente che può alleviare questo tipo di fastidi in soli 7 giorni. In che cosa consiste questo rimedio? Innanzitutto dovete comprare 150 grammi di gelatina commestibile, preferibilmente quella in sapore. Questa quantità è sufficiente per un mese di trattamento. Mettete due cucchiaini di gelatina in un quarto di tazza di acqua fredda e lasciatela riposare per tutta la notte fuori dal frigorifero. Il mattino seguente la gelatina si sarà già gonfiata e potrete mangiarla con un po' di miele, succo, yogurt o panna acida. L'importante è mangiarla a digiuno, almeno 30 minuti prima di colazione. Questo trattamento va realizzato per un mese intero, ma ci si sente meglio già dopo 7 giorni dall'inizio del trattamento. È ideale per chi soffre di mal di schiena, dolori alle articolazioni, alla colonna vertebrale o al collo. Questo rimedio aiuta a migliorare la lubrificazione delle articolazioni. Perché la gelatina fa così bene alle articolazioni? La gelatina è un prodotto molto facile da reperire a bassi costi e che può essere abbinato ad altri ingredienti per creare dolci molto nutritivi. Questo alimento è caratterizzato da un alto contenuto di proteine che si ottengono come risultato dell'elaborazione del collagene animale, può essere utilizzato come stabilizzatore, agglutinante o addensante in diverse ricette. Si dice che la gelatina sia ottima per le articolazioni perché contiene due amminoacidi, prolina e idrossiprolina, che agiscono in modo positivo riparando i tessuti connettivi. Il consumo di gelatina, quindi, può aiutare ad aumentare il tessuto connettivo, fondamentale per trattare le articolazioni interne. Altri benefici della gelatina La gelatina possiede molte proprietà importanti che possono aiutare a migliorare la salute in vari modi. Tra i suoi benefici troviamo i seguenti. La gelatina è un alimento ricco di amminoacidi, come l'arginina e la glicina, che stimolano la formazione dei muscoli. È un alimento che non contiene né colesterolo né grassi, oltre a essere ottimo per accelerare il metabolismo e per perdere peso. Aggiungendo la gelatina e pasti, si facilita la digestione di alimenti come la carne e i latticini, di solito molto difficili da digerire. Essa, inoltre, contribuisce a eliminare il gonfiore addominale e può regolare gli ormoni. Il consumo regolare di gelatina potrebbe aiutare a prevenire lo sviluppo di osteoporosi e osteoartrite, da elasticità e forza a tendini e legamenti, La gelatina ha proprietà che aiutano a rafforzare il sistema immunitario. Stimola la crescita dei capelli e delle unghie, dimostrandosi un favoloso alleato per la bellezza. Contiene un totale di 18 amminoacidi tra i quali sono inclusi 8 dei 9 essenziali che il corpo non può sintetizzare e che deve ricevere attraverso gli alimenti. La gelatina contiene il fluoro, un elemento chimico che in piccole quantità aiuta a preservare lo smalto dei denti prevenendo la comparsa di carie. aiuta a rigenerare il collagene della pelle, sostanza presente anche nelle ossa, nei tendini, nelle cartilagini e nei legamenti, e che, con il passare degli anni, va diminuendo. È consigliata per contrastare disturbi gastrici come gastrite e acidità di stomaco perché neutralizza la produzione eccessiva di acidi gastrici, può essere di aiuto nelle diete dimagranti visto che dà una sensazione di sazietà e diminuisce l'appetito.